Adesso è finita per davvero. Anche il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Teramo e Campobasso che chiedevano la riammissione al campionato di Lega Pro. Decisione arrivata in mattinata, come nelle previsioni, ma peggiori di quanto. Indiscrezioni di ieri lasciavano trasparire una sconfitta l'ennesima su una linea che fosse passata. Avrebbe rimesso in discussione l'intero sistema di rilascio delle licenze nazionali. La partita, in verità, è sempre stata molto, troppo complicata. Per il Teramo, più che per il Campobasso, certo, ma in questo caso i molisani, vincendo, avrebbero aperto la strada alla discussione sul metodo, oltre che sul merito. E avrebbero indirettamente fatto un favore anche al diavolo, che sul mancato rispetto dell'indice di liquidità e altre criticità sollevate dalla Covizoc avevano visto incagliare il proprio futuro. Da questo momento in poi, invece, non ci sono più gradi di giudizio per provare a far valere le proprie ragioni e di conseguenza, da adesso, si apre ufficialmente la partita per il futuro delle due squadre Il Teramo vedrà svincolati i tesserati sotto contratto e oggi pomeriggio la Lega Pro, uscita ammaccata prima ma ora rafforzata dai tempi dilatati, alle 18 varierà i calendari che sarebbero già dovuti essere compilati qualche giorno fa. Ora il sindaco D'Alberto dovrà accelerare nell'iter che dovrà portare almeno alla richiesta di una partecipazione in sovrannumero in Serie D. L'altro giorno l'ok della commissione alla SS di Città di Teramo, società costituita con questa finalità, passaggio propedeutico al piano di emergenza che va davvero messo in atto ora, senza perdere altro tempo, visto che si avvicina a settembre e non c'è nulla da attendere. Anzi, finora, visti i risultati, se ne è perso molto di tempo. Quello che oggi servirebbe come il pane, da questo momento si deve correre. Cosa resta però di tutta questa vicenda? Amarezza da parte delle tifoserie, certo, ma anche la consapevolezza che il sistema delle licenze, una volta accettato dai partecipanti, regge fino all'ultimo grado. Che non abbia asterischio via di fuga. Ed è questo l'elemento su cui si fondava la resistenza della Federcalcio. Si parla da anni di riforme, ma sarebbero un'utopia senza la certezza che le regole, messe alla prova, tengano nei vari gradi. Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi, chiamate in causa come troppo spesso nell'alveo del calcio italiano, hanno confermato quello che gli organi di giustizia sportiva avevano sancito. E la giustizia amministrativa ora ha dato sostanza nel merito ad un percorso di valutazioni e sanzioni da parte di Covizoc, Consiglio federale e Collegio di Garanzia del CONI. Se l'impianto, come Stato, tiene, allora uscire dal solco del procedimento sportivo diventerà in futuro meno incentivante. Ma questo, a Teramo e Campobasso, oggi importa come è ovvio. Molto poco ora le attende una rincorsa al campionato migliore possibile, chiudendo pagine recenti che adesso non possono più essere riaperte.